bella a tutti ragazzi io sono valerio io sono francesco e oggi siamo in un video veramente simpatico oggi diciamo facciamo indovina il personaggio degli anima e infatti abbiamo preso a testa cinque personaggi e vedendo una piccola immagine ritagliata ovviamente da noi dovremmo scoprire di che personaggio si tratta quindi chi ne indovinate più vince questa sfida il primo è questo molto semplice secondo me e infatti le regole diciamo non le abbiamo dette ma sono che abbiamo tre tentativi per decidere e se entro due tentativi non le azzecchiamo possiamo chiedere qualcosa e quindi quello ci risponderà e se la terza non va bene ovviamente il punto non ce lo prendiamo allora io già parto in terza e ti dico doloria giusto diciamo che era i primi sono molto facili già lo sto vedendo e forse l'ha capito perché diciamo anche questo come vedete è abbastanza facile vuoi dare la testa allora secondo me è il robottino quello di dragoball di dragoball gt e si dovrebbe chiamare gil bravo 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 me lo sono riuscito all'inizio quando l'ho visto sì ma che cosa è questa cosa non capito però poi infatti come vedete l'immagine normale è gil allora allora poi c'è un'altra penso che per lui è semplice però farla vediamo è molto semplice speriamo allora dovrebbe essere boros giusto ok perché diciamo questa armatura è quella che lui ha all'inizio all'inizio del combattimento perché in totale ha tre trasformazioni quella con l'armatura quella senza è quella bianca quindi per fortuna perché non lo so non so che di cavalieri dello zodiaco perché no no boros però infatti come vedete è boros questa è difficile però praticamente di personaggi con questi colori non ce ne sono aspetta ma che cos'è non riesco a capire che cos'è è praticamente il braccio la giuntura del braccio e il fiango ok di questo personaggio se cos'è quel braccio dovrebbe essere rosso questo rosso hai due tentativi dopo di che mi vuoi chiedere qualcosa oppure magari te lo posso allora io direi giamaggio unito con black e goku no 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 per cosa è questa cosa? no io già te l'ho buttata sul difficile secondo me mi merita una difficile al prossimo tour no io con i miei consigli poi allora potrebbe potrebbe essere cooler cooler? no allora ti dico solamente che è il nemico principale di un film di Dragon Ball ma cooler no in che senso? no non è cooler non è lui però come cooler è un personaggio cioè è l'antagonista principale di un film di Dragon Ball Z ok? va bene ok? e in questo film si vede un personaggio che non è canonico ma se ce l'ho detto ehm non te l'ho detto ti devi ricordare il nome e io Gianemba bravo dai guarda ti ho dato molto e molte cose vabbè ti immagini giusto ah ok diciamo ok ho preso una parte eh però praticamente di braccia rosso esiste solo lui no vabbè Dragon Ball tu me la offri su un schiazzone di Dragon Ball Z è il mio personaggio preferito di Dragon Ball Z lo so però devi chiedi dai non è allora all'inizio ero un po' indeciso è Dragon Ball perché gli riconosco lo stile ehm e dico senza fra di dubbio cauligla giusto ragazzi veramente un personaggio come ve l'ho detto sempre che mi piace tanto dai allora sicuramente però sbagli il nome ah perché il nome però dov'essere Monaco e Monaco ah vabbè non ho sbagliato allora diciamo che un po' difficile dato che quella di qua ti vedo tutta la faccia io direi un Recon ah ma questioning la sua stella qua chi è questo? allora io non conosco nessuno di Reade Beto quindi praticamente ci arrivi ah vabbè io non conosco insatto vabbè Sasuke vabbè ok lo stile di disegno era quello quindi diciamo che perché hai preso delle caratteristiche molto peculiari dei vari personaggi e questo ragazzi E Nier Giusto Allora ok Va bene Dai L'ho capito È semplice Diamo Poi il personaggio Protagonista Di Ante di X Hunter Si chiama Gon Gon E anche questo Diciamo che Mi sembrava che proprio Non ti ricordavi il nome Però Dato che abbiamo Allora Ricordavo tre lettere Certo Gon Ti ricordavi quella cosa Gon E infatti È Gon Allora abbiamo deciso Di fare uno bonus Visto che siamo stati Bravi Anche se erano Sandwich Sono stati bravissimi Io anzi Ne avevo preso come Che era un po' troppo difficile Praticamente Si vedeva solo il braccio Allora ragazzi Questa è difficile Perché non so Se è quella giusta Però dai Io mi ci butto Non dobbiamo Odere il possibile Però adesso Mi devo ricordare Come si chiama Trafalgarlo Giusto Queste chiazze Queste chiazze Le ricordavo Però mi ricordavo solo Che erano nel cappello Che sono Anche nel vestito Vecchio Ho preso quello vecchio Del vestito Mamma mia ragazzi Io non l'ho mai visto Cioè l'ho visto Solo tipo Poche scene Però Io ricordo le chiazze Allora È un sorriso Peculiare Allora Devo dire che Dall'immagine Sembrerebbe Sembrerebbe Già di averlo visto Però mi devo ricordare Perché aveva questa barbetta Così Il sorriso Il sorriso Il sorriso Da Marco La felice Come vedete Qui c'è l'immagine Ed era veramente lui E quindi ragazzi 20 minuti Abbiamo registrato 20 minuti Poverà 5 minuti Quindi ragazzi Per oggi è tutto Spero vi sia piaciuto Questo video E niente Non ci vediamo Nel prossimo video Ciao